Buon pomeriggio, prima edizione del TG6 che apriamo parlando di viabilità perché grazie ad una rimodulazione delle risorse del Masterplan Abruzzo La giunta regionale ha approvato una delibera per destinare 56 milioni di euro alle quattro province proprio per la viabilità provinciale Il servizio di Paolo Renzetti Abbiamo drenato risorse facendo un paniere di 56 milioni di euro per le strade provinciali con una logica da gesto istituzionale solidale Una tantum a favore della viabilità provinciale, consapevoli come sempre che è lo Stato che deve finanziare le province Io ho battagliato anche con Gentiloni, Laboschi, Del Rio, Lucalotti, De Vincenti Pretendendo in sede di conferenza dei Presidenti e Stato Regione che tornino coperture finanziarie per quanto riguarda le province E credo che nella legge di stabilità compariranno 8-900 milioni per la prima volta dopo anni di tristezza finanziaria a favore della vita ordinaria delle province Questi 56 milioni di euro seguiranno la consistenza dei drammi e dei guai che già sono stati rubricati sulle strade provinciali 16 milioni alla provincia di Chieti perché è quella più danneggiata soprattutto con i grandi drammi dell'Alto Vastese 15 milioni alla provincia di Teramo per i grandi problemi che ha nella Vallata del Fino 14 milioni in provincia di Pescara per i drammi che ha nella zona della Vallata Vestina E 11 milioni alla provincia dell'Aquila poiché la provincia dell'Aquila è fortemente servita anche da una idonea rete stradale statale Che si ingrandirà? Per esempio noi stiamo lavorando, avendo messo al primo posto nel nostro dossier L'ulteriore inclusione della strada statale che deve essere assunta come tale ieri provinciale che porta a Scanno Per l'altissimo rischio caduta massi che caratterizza la strada che porta a Scanno Lo stesso lavoro lo faremo sulla Fossacesi a Lanciano e poi sulla strada della provincia di Teramo Che da Silvi porta ad Atri e poi alla SS80 Annuncio in questa sede che noi abbiamo precisato anche le quantità e a che cosa serviranno questi fondi Non per fare nuove strade, ma per risistemare e mettere in sicurezza quelle che ci sono In Italia il codice della strada parla di circolazione in sicurezza Pubblicati dal Ministero della Salute gli indici dei livelli essenziali di emergenza e assistenza sanitaria 2015 La migliore regione è la Toscana, inadempiente tutto il sud Italia, tranne la Basilicata Le criticità maggiori nella copertura vaccinale, screening e assistenza sul territorio Balzo in avanti per l'Abruzzo che risulta essere fra le 11 regioni adempienti con un punteggio di 182 Soddisfatto l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci I risultati degli indici LEA di livelli di assistenza della rete ospedaliera regionale Per l'Abruzzo un grande balzo in avanti Assessore Paolucci Il più alto, il migliore del paese e che ovviamente sottolinea, essendo anche fonte terza quella del Ministero della Salute Che l'Abruzzo ha messo in campo una riforma valida, che ha incrementato la qualità della prevenzione oncologica Che ha dato risposte migliori sui tempodipendenti e quindi sulla rete di emergenza urgenza per gli ictus, i trauma o gli infarti Che ha messo in campo una rete territoriale migliore, una risposta ospedaliera sui femori per gli anziani Piuttosto che sul percorso materno-infantile e la riduzione dei tagli alle donne con i parti cesarie Che è stata apprezzata e sono risultati oggettivi di fonte terza non strumentalizzabili Per i quali credo che possa esserci un plauso anche dall'opposizione La performance di 19 punti tra le regioni del centro-sud con la Basilicata, l'Abruzzo è l'unica regione adempiente È il più alto balzo del paese, più 19 e siamo l'unica regione del centro-sud insieme alla Basilicata ad essere adempienti E la seconda tra quelle in piano di rientro appena dopo il Piemonte Penso che sia un risultato migliore, che ci deve far dire siamo soddisfatti rispetto al percorso attuato Ma anche dire che bisogna fare ancora di più e ancora meglio Però si può dire oggi che tre anni hanno dato buoni esiti e buoni risultati Voi state lavorando anche sul potenziamento della rete urgenza e emergenza per quanto riguarda le aree interne? Sì, abbiamo installato diverse postazioni nelle aree interne, davvero tante perché poi costa anche molto Vuol dire che la regione nonostante le ristrettezze economiche è investito sulle aree interne Le postazioni di 118 sono dei piccoli pronti soccorso ambulanti, ovvero mobili Che danno nel caso di specie sulla rete di emergenza urgenza una stabilizzazione in loco E aver ridotto la vicinanza del 118 di questi pronti soccorso che si muovono al cittadino Ha certamente garantito molto e di più le aree interne rispetto alle possibilità di sopravvivenza In ragione delle urgenze che possono verificarsi A Pescara Blitz questa mattina degli agenti della Polizia Municipale nella zona dell'ex Draga Trovate in condizioni igienico-sanitarie precarie sei cittadini stranieri Continua la tolleranza zero da parte del Comune di Pescara verso il degrado urbano e soprattutto verso i bivacchi in centro Questa mattina sei agenti del Giona della Polizia Municipale, il gruppo di intervento operativo del nucleo antidegrado Agli ordini delle Maggiore Danilo Palestini nel corso di un'operazione iniziate attorno alle 7.30 Hanno sgomberato l'area del lungo fiume di Pescara nella zona della ex Draga Al cui interno e in alcuni accampamenti di fortuna in condizioni di degrado e soprattutto igienico-sanitarie precari Sono stati trovati sei cittadini stranieri, di cui tre polacchi, due rumeni e una sesta persona in corso di identificazione perché senza documenti Sul posto sono arrivati anche gli agenti della squadra volante della Questura Nelle scorse settimane, così come annunciato in una conferenza stampa dal neoassessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro Si è dato il via ad una serie di controlli e operazioni di sgombero nelle aree di risulta della stazione ma anche in altri quartieri della città di Pescara Noi siamo coerenti, quindi abbiamo detto sin dall'inizio che la torrenanza usata, che verrà usata sarà pari allo zero E così stiamo facendo, però abbiamo usato anche un'altra espressione importante Un pugno di ferro in un guando di velluto Noi vogliamo che queste persone, se hanno bisogno di aiuto, ecco bene, basta che loro lo dicano perché noi vogliamo aiutarli Noi attraverso anche i servizi sociali abbiamo le strutture necessarie per poter ricoverare queste persone Però attraverso le regole, le regole del buon vivere Quindi vogliamo rispetto delle regole che diano garanzia del decoro urbano e anche della legalità Che è il tetto, l'architrave su cui ogni cosa poggia Rimaniamo a Pescara adesso perché come annunciato già nei giorni scorsi Da lunedì è diventato ufficiale il cambio al comando della compagnia di Pescara Dove dopo sei anni ha lasciato il maggiore Claudio Scarponi Destinato ad un nuovo incarico presso la legione Marche E si è insediato il capitano che vedete nella foto Antonio Di Mauro Originario di Napoli, 30 anni, il capitano Di Mauro ha frequentato la scuola militare Nunziatella L'Accademia militare di Modena e successivamente la scuola ufficiale Carabinieri di Roma Dove ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza E dunque auguri di buon lavoro al comandante della compagnia di Pescara Di Mauro E a Pescara rimaniamo perché i consiglieri comunali di centrodestra in conferenza stampa Hanno denunciato oggi che non ci sono fondi per il parco depurativo Che dovrà sorgere proprio nel capoluogo adriatico Vediamo L'intervento annunciato ieri sarà l'unico intervento realizzabile Peraltro con fondi che sono fondi del governo nazionale del 2014 Quindi su cui non hanno nessun merito nella regione, nell'attuale governance di Aca Tantomeno il comune di Pescara La cosa gravissima è che non si realizza il parco della depurazione Fatto di una serie di interventi Il primo dei quali era una vasca di accumulo all'altezza della Madonnina Per contenere le acque meteoriche Ed evitare che queste acque confluendo nel fiume e quindi nel mare Portassero ogni volta l'emerazione di ordinanze di non balneabilità Di tratti importanti del mare adriatico di fronte a Pescara Cosa ancora più grave Non ci sono minimamente i fondi per realizzare la separazione delle acque bianche E delle acque nere che è un altro intervento strategico Sul cui il consiglio comunale di Pescara all'unanimità aveva deliberato Siamo in sintesi di fronte all'ennesima presa in giro Da parte della regione a guida d'Alfonso e da parte del comune a guida Alessandrini Una presa in giro nei confronti non dei consiglieri comunali Ma di tutti i pescaresi Che hanno creduto che finalmente fossero maturate le condizioni Per interventi seri così come era stato deliberato dal consiglio comunale a marzo 2017 A questo punto occorre che presidente della regione e sindaco tornino in consiglio comunale A dirci dove andranno a prendere i soldi per realizzare questi interventi Che sono prioritari per la vita del fiume Pescara, del mare e della città di Pescara stessa Andiamo all'Aquila adesso perché oggi gli studenti delle scuole superiori Sono scesi in piazza, un corteo vivace e colorato Per chiedere alle istituzioni, cittadine e provinciali Quella sicurezza sull'edilizia scolastica che ancora non c'è E' emblematica la situazione del Cotugno Spezzato in cinque diverse sedi Ospiti di altre scuole con disagi per tutti Vediamo il servizio Un corteo bello e colorato, quello degli studenti delle superiori aquilane Che stamane sono partiti dal polo scolastico di Colle Sapone Per raggiungere poi la villa cittadina Slogan all'indirizzo delle istituzioni, tutte, nessuna esclusa Per chiedere innanzitutto sicurezza rispetto all'edilizio scolastica Certezze sui tempi e tutela del diritto allo studio Esuli nella nostra città, lo slogan scelto per manifestare A ritmo di musica e canti, pacificamente e con molta intelligenza Una battaglia che però per gli studenti deve essere di tutta la città La richiesta che purtroppo è la solita è quella della sicurezza È richiesta di trasparenza da parte di tutte le istituzioni A partire dalla provincia dell'Aquila a seguire con il comune Il nostro bisogno nasce dal fatto che dopo otto anni e mezzo dal terremoto Ritrovarci in una situazione del genere è inenarrabile E adesso noi quello che vogliamo richiedere Insomma nello specifico è anche sapere le tempistiche Per quanto riguarda l'ex optimus Quando verrà trasferito il convinto nazionale Domenico Cotugno lì E stiamo aspettando delle risposte Il messaggio che noi vogliamo mandare alla città è diverso Noi vogliamo che questa non sia la battaglia delle scuole Ma sia la battaglia di una città La situazione del liceo e convinto Cotugno Resta la più complicata con un autentico spezzatino Effettuato per poter permettere il rientro Ad inizio anno scolastico degli studenti Anche i docenti hanno scelto di appoggiare la protesta degli studenti Ed erano presenti a chiusura corteo con uno striscione Tutti in piazza a rivendicare diritti sacrosanti E un po' di normalità Che a otto anni dal sisma andrebbe ripristinata Ma non a chiacchiere in sicurezza E' perché noi docenti del Cotugno Abbiamo una situazione diversa Da quella degli altri docenti di questa città Fermo restando che il problema della sicurezza delle scuole E' un problema di tutti E che magari anche i docenti lo sentono Però la nostra situazione è molto diversa Perché noi siamo una scuola dell'Aquila senza scuola Non abbiamo le mura Noi siamo dispersi su cinque sedi diverse Che non sono sedi nostre Perché se fossero cinque sedi nostre Si sopporterebbe meglio Ma siamo ospiti di altre scuole Creiamo disagi Abbiamo disagi noi e li creiamo agli altri Perché in realtà siamo ospitati da presidi fantastiche Da colleghi fantastici Ma abbiamo grosse difficoltà Era a Montorio il nuovo cinema paradiso di Tonino Valeri Il regista Terramano scomparso esattamente un anno fa Nato nel 34 Ha trascorso i primi dieci anni di vita a Montorio Scoprendo la fascinazione del cinematografo nel cinema moderno L'attuale sala civica di Piazza Orsini Il comune di Montorio ha deciso di ricordare questo personaggio il 28 e il 29 ottobre Con l'iniziativa Omaggio a Valeri Che prevede la proiezione di due sue pellicole al cineteatro comunale Tutta una serie di iniziative culturali dedicate per il 2018 Vediamo Qual è il programma di questa due giorni dedicata a Tonino Valeri? Beh è un programma chiaramente iniziale Nel senso che la Proloco ha accolto benevolmente Intanto questo omaggio a Tonino Valeri Un impulso partito da cittadini montoriesi Che hanno chiaramente sentito la necessità di ricordare un grande regista Nato a Montorio al Vomano Che era stato ricordato in altre circostanze nella provincia di Terramo Ma mai a Montorio Quindi questa è un'occasione per dare a Cesare quel che è di Cesare Partiremo sabato 28 Con la proiezione del prezzo del potere in serata E poi domenica 29 in pomeridiana con i giorni dell'Ira Gli interventi dei film saranno anticipati Chiaramente da un'analisi critica condotta da Leonardo Persia E poi nel 2018 ci saranno altre celebrazioni Che concluderemo con una sorpresa che non possiamo anticipare Perché stiamo aspettando delle risposte istituzionali importanti È stato un esponente massimo nel suo campo Quello dei spaghetti western, nella regia Quindi è chiaro che per noi diventa importante omaggiarlo E soprattutto di centralizzarlo a Montorio Perché Antonio Valeri è nato a Montorio Ma soprattutto a Montorio ha cresciuto il suo amore per il cinema Infatti lui in un primo periodo che viveva a Montorio Poi si spostò a Campli Però tornava la domenica dai nonni per trovarli E si scappava al cinema moderno L'attuale sala civica di Montorio Alvomano Per infilarsi nella cabina di regia E vedere quello che faceva il professionista Quindi diciamo che lì è nato il suo amore Riconosciuto da lui stesso direttamente a Pietro Serrani Che sarà uno dei curatori di questi omaggi E quindi come Montorriesi e come amministrazione in questo caso Ci piace ricentralizzare la figura di Antonio Valeri Perché è importante secondo me che lui abbia comunque Iniziato in certo qual modo il suo amore per il cinema Nella cittadina montorriese Il Parco Nazionale del Gran Sasso Interviene nel dibattito sulla cura delle montagne aquilane Dopo il recente incendio a Fonte Betica Che ha scatenato diverse polemiche Le regole ci sono, spiega il presidente del parco Ma manca la cultura del turismo montano Le regole ci sono Ma spesso è la cultura del turismo montano a mancare E chi frequenta le nostre montagne Spesso non ha la minima idea di come ci si comporta Regole anche ferre che spesso però non vengono rispettate Il riferimento è anche a quanto accaduto a Fonte Betica Con l'incendio solo poco tempo fa Piuttosto sarebbe necessario informare Mettere in campo azioni diverse Dalla pura e semplice repressione e sanzione Parola del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Tommaso Navarra Le regole peraltro in termini di assoluta forza E con carattere stringente ci sono Nel senso che all'interno del perimetro del parco È vietato accendere fuochi È vietato campeggiare liberamente Ed è vietato il semplice transito sul manto erboso Quindi quelle persone in quel luogo non ci potevano stare E soprattutto in quel luogo non potevano accendere Qualsiasi tipo di fuoco Però abbiamo un problema culturale Cioè chi frequenta la montagna può ancora pensare di recarsi su una prateria Che è una prateria di valenza mondiale Per farsi le classiche rostelle Punto interrogativo Sanzionare è la cosa più semplice Perché in realtà è una risposta immediata Che però non toglie il profilo culturale Dobbiamo lavorare sul profilo di prevenzione e sul profilo culturale Il problema è anche il controllo del territorio Prima la forestale agiva come una vera e propria sentinella Poi la fusione con i carabinieri Purtroppo, rileva il presidente del parco I carabinieri forestali sono pochi Rispetto a quello che è il perimetro del parco nazionale Ci assumiamo rispetto a gestione dei comandi stazione In realtà una spesa di circa 500.000 euro annui Anche per i mezzi e tutte le strutture Però qual è il problema? Abbiamo 102 soltanto i appartenenti al corpo forestale dello Stato Oggi i carabinieri forestali Per quanto spazio? 150.000 ettari Quindi capiamo di che cosa stiamo parlando E quindi c'è sicuramente una difficoltà di controllo e di azione del territorio Testimoniare la vocazione al design e alla bellezza di Mosciano Sant'Angelo Attraverso la street art E l'intento di Mariano Monaco Promotore del progetto Arte Pubblica Alle porte della città del mobile Lo street artist bresciano Diego Finazzi Sta realizzando un murales Risultato anche vincitore di un concorso Vediamo Abbiamo voluto anche fare questa opera Per raccordarci un po' con il paese di Mosciano Che sta lassù Dove si svolge da qualche anno Una bellissima manifestazione della street art E quindi così coinvolgiamo un po' la periferia anche del paese Per fare questa opera abbiamo indetto un concorso Diego Finazzi che è l'artista che sta realizzando l'opera Se le ha giudicato Lui viene da Brescia Ma è rimasto colpito anche dal tema di questo concorso che abbiamo indetto L'opera doveva significare il bello, il design, un oggetto di arredamento E credo che siamo riusciti ad ottenere veramente un bel lavoro Dici un po' giusto per farci un po' di conti Quante bombolette all'incirca ci vogliono per realizzare un Morales del genere? 80, 100 10 metri per 10? 10 metri per 10 Quindi ti auguriamo un buon lavoro E sicuramente i telespettatori vorranno vedere con i loro occhi questa opera d'arte Perché la street art ormai è un'arte riconosciuta a tutti gli effetti Quindi noi invitiamo tutti a Mosciano Sant'Angelo Bene, vi aspettiamo numerosi Cercavo un senso è il singolo del cantautore aquilano Simone Cocciglia Finalista al premio internazionale Mia Martini in Calabria Ambientato sul Gran Sasso il videoclip è stato ripreso anche dal TG.com Vediamo 12, 13 e 14 ottobre sono i giorni del premio internazionale intitolato alla memoria della grandissima Mia Martini In Calabria, sul palco, artiste di ogni genere e una finale che parla aquilano Il cantatore Simone Cocciglia con Cercavo un senso e la giovanissima Antonella Scellini nella sezione Una voce per Mimì Cercavo un senso è il nuovo singolo di Simone Cocciglia che sarà racchiuso in un cd che uscirà la prossima primavera Un successo del web per il momento finito anche sul TG.com Per me è un onore, ho partecipato a diversi concorsi Il premio Mia Martini è veramente, porta un nome importante quello di Mia Martini Quindi partecipare ancora più, essere arrivato alla finale Ancora più un onore e non vedo l'ora di partecipare a questa splendida finale che si terrà il 14 ottobre prossimo Sì, l'anteprima del video è andata su TG.com Per me è veramente stata un'esperienza bellissima E potete trovarlo anche su Youtube, adesso è online quindi disponibile per tutti E spero che vi piaccia Conterrà Cercavo un senso, conterrà Pozzanghera che è un altro inedito uscito l'anno scorso Conterrà Disidratato che è un altro brano uscito pochi mesi fa Insomma è un cd che racchiude, è una storia, diciamo è racchiusa in questo cd una storia Tutte le canzoni sono legate da un filo rosso che le accomuna e quindi non vedo l'ora di farvelo ascoltare Primi mesi del 2018 A firmare la regia del video un altro talento aquilano, Francesco Paolucci con un corpo di ballo tutto aquilano E in mezzo uno spaccato sempre del territorio, le splendide montagne del Gran Sasso Cercavo un senso tornando a questo, è piaciuto molto, è piaciuta molto anche la location e il corpo di ballo che è tutto aquilano Assolutamente sì, ci tenevo e ci tengo a portare alto sempre il nome dell'Aquila in giro per l'Italia C'è il Gran Sasso che ovviamente fa da location nel videoclip e ci sono un gruppo di ragazzi fortissimi Ballerini aquilani che saluto e ringrazio perché il loro talento e la loro disponibilità è sempre veramente per me un grande piacere Apriamo adesso la pagina di sport, partiamo dalla Serie B e dal Pescara Gans Pettinari, Mancuso del Sole, questi sono i ballottaggi che Zeman si porta dietro per la trasferta di domani pomeriggio al Tardini di Parma Le ore 15, in difesa fuori causa Bovo, spazio a code per rotta, ha convocato anche il baby uruguaiano Elisalde, il servizio di Andrea Costantini Partenza anticipata questa mattina per il Pescara alla volta di Parma, dove domani al Tardini i biancazzurri di Zeman se la vedranno con l'undici di un pescarese doc, quale Roberto D'Aversa Nel pomeriggio la seduta di rifinitura, come previsto non fa parte della spedizione ducale Cesare Bovo, fuori causa per una contusione al ginocchio riportata col Cittadella Restano fuori dalla lista anche Latte Latte, non ancora pronto per Zeman, Campagnaro e Proietti Convocazione per il gioiellino uruguaiano Elisalde Dopo la partitaccia col Cittadella, l'obiettivo di domani è chiaro Abbiamo fatto una partita che non è nelle nostre corde, che non si deve ripetere assolutamente Dobbiamo voltare pagina però, contro il Parma sarà una bella trasferta e dobbiamo andare lì per vincere Su fronte formazione davanti a Pigliaceli tocca la coppia delle prime giornate, coda per rotta Sulle corsie esterne Balzano minaccia Zampano e Mazzotta, va verso la conferma il centrocampo con Brugman, Canutè e Coulibaly Palazzi non ha i 90 minuti e potrà essere utile uscendo dalla panchina Novità potrebbero giungere dall'attacco, con Capone pronto a riprendersi la fascia Mancina dopo le ottime prove in Under-19 Ballottaggi per le altre maglie, con alte possibilità per Mancuso e Gans di strappare una maglia da titolare a Del Sole e Pettinari Se così fosse, Zeeman stravolgerebbe almeno metà squadra rispetto a domenica scorsa Lui che non ama cambiare tanto, ma il Pescara è ancora una sorta di cantiere Col boemo che, pur non dicendosi preoccupato perché c'è tempo, non riesce a dare la sua impronta alla squadra Roberto D'Aversa, finora da allenatore avversario, ha gioito molto poco con il Delfino Nel 2014 un gol di Melchiori all'ultimo attacco negò al tecnico pescarese la vittoria sui Biancazzurri Mentre nella gara di ritorno al Biondi finì 0-1 con gol di Bjarnason Nel dicembre 2015 altro dispiacere per D'Aversa Il Pescara di Oddo passa nell'impianto Frentano per 1-2 al Tardini Sette precedenti tra le due squadre con quattro vittorie ducali, un pareggio e due successi Biancazzurri L'ultimo a gennaio 87 nell'anno della prima promozione di Galeone 1-2 con le reti di Rebonato e Pagano L'anno dopo Zeman avrebbe allenato il Parma del Doposacchi Brutta parentesi, appena sette partite, poi l'esonero Andiamo in casa Parma adesso perché nelle parole del difensore gialloblu Mazzocchi C'è la voglia dei ducali di dare seguito alla buona prestazione di Palermo Per la quale resta il rammarico per alcuni episodi arbitrali contrari Lo ascoltiamo Sicuramente l'amarezza è tanta però adesso dobbiamo portare pagina e guardare il Pescara Nient'altro Sicuramente è un campionato molto equilibrato, basta guardare la classifica Siamo tutti lì, infatti dobbiamo stare attenti, non bisogna sbagliare niente Adesso sabato abbiamo il Pescara e ci dobbiamo preparare e via così Sabato il Pescara, squadra un po' pazza perché ne vince una e ne perde due Arriva Zeman che a Parma ha lasciato ricordi non buonissimi Come pensate di affrontarlo? Ma queste sono cose che comunque deve vedere il Miss, adesso ci stiamo preparando per questa gara L'importante è il nostro compito è scendere in campo e dare il massimo, dare il 100% Il Parma segna, crea tante occasioni ma segna poco Adesso sono arrivati quasi tutti dei difensori, come te lo spieghi? Questi sono periodi che vanno affrontati con una maggiore leggerezza Poi noi abbiamo giocatori in attacco che hanno fatto una carriera straordinaria Quindi sanno loro come affrontare questa situazione Piano piano sto metabolizzando cosa vuol dire giocare in C e cosa vuol dire giocare in B In B se fanno errore si è morto, nel senso che 9 palle su 10 fanno gol Bisogna stare attenti a non sbagliare, soprattutto dietro Poi piano piano si va avanti Scendiamo in Serie C adesso perché per il Teramo domani pomeriggio al Bonolis Impegno complicato contro il Padova di Pierpaolo Bisoli Asta dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 Stamattina conferenza stampa pre-gara dell'allenatore bianco-rosso Per le ultimissime ascoltiamo dal Bonolis Ania Cantagalli Terremo in campo qui domani al Bonolis per affrontare il Padova L'ultima gara di un trittico di partite che ha visto la squadra di Asta affrontare Formazioni di vertice, trittico iniziato con la Feralpi e poi proseguito domenica scorsa contro il Bassano Padova che si è allenato anche a Teramo per provare il sintetico Che dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Guidone e Capello in avanti Andiamo ad ascoltare le parole di Asta proprio sul prossimo avversario Squadra esperta, squadra di qualità, squadra anche esperta in certe zone ma anche giovani di valore Perciò è un mix giusto Mi aspetto un Padova come le ho viste nelle ultime gare che comunque gioca con parecchi attaccanti Due attaccanti, tre quartiste, centrocampisti si inseriscono molto, i terzini si propongono Quindi è una squadra proiettata molto alla fase offensiva Quindi domani per l'ennesima volta dobbiamo fare una grande gara difensiva E sfruttare al meglio quelle occasioni che ci capiteranno Per quanto riguarda invece il Teramo Asta dovrebbe confermare l'ormai consueto 3-5-2 Ci saranno alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista contro il Bastano domenica scorsa Foggia e Bacio Terracino dovrebbero essere la coppia d'attacco scelta dal tecnico Biancorosso E udite udite al centrocampo potrebbe anche esserci la conferma di Graziano Però nel ruolo di play a dispetto di Amadio provato molto spesso in settimana che sembrava dunque prossimo al rientro Mentre in difesa Altobelli dovrebbe essere preferito a Sales Ma Asta parla anche, ha parlato questa mattina di qualche punto in più Che avrebbe preferito ovviamente rispetto agli attuali sette del Teramo Fin qui raccimolati appunto dalla squadra Biancorossa Ascoltiamo Per quello che abbiamo dimostrato in campo dovevano essere non dico molti di più Sicuramente qualcuno in più, è questo no Perché poi le partite le abbiamo fatte Ho tolto il primo tempo di Pordenone Ma questa è un'acqua passata, lo sappiamo Però non posso dirvi che insomma un pochino Non dico che mi preoccupa come dicevo prima Però insomma quando giochi bene e non vinci Insomma mi preoccupo sì Perché giochi bene, fai buone prestazioni e non vinci E allora forse magari giocare meno bene e portare a casa qualcosa Ma sicuramente forse succederà così anche qualche altra volta Però non c'è dubbio che dobbiamo pensare che quando proponi 4-5 palle gol di cui 2-3 clamoroso come a Bassano Tu per tu col portiere non puoi pensare poi di vincere le partite se non fai gol Ed infine proprio per quanto riguarda gli attaccanti Il tecnico Biancorosso si augura che a fronte delle numerose occasioni Avute finora dalla sua squadra Gli stessi attaccanti non entrino in un tunnel Che poi sarebbe difficile da superare Per quanto riguarda appunto una maggior concretezza sottoporta Lavoriamo in settimana Con i giocatori Con delle esercitazioni mirate Ma a volte purtroppo quando arrivi negli ultimi 20 metri Non ci sono grandi esercitazioni Lì c'è la qualità del giocatore La freddezza E magari in questo momento cosa mi dispiace Se magari gli attaccanti entrano in un tunnel Critico anche loro su loro stessi L'autostima è minore Tanto sbaglio Ecco questo non deve succedere E questo era anche il nostro ultimo servizio E vi ricordo i prossimi appuntamenti Con l'informazione di TV6 Questa sera alle ore 19 con la seconda edizione Per la terza bisognerà attendere fino alle 23 Tutto, buon pomeriggio Per la terza bisognerà attendere fino alla prossima Grazie